allora oggi nuovo video come avete capito praticamente dal titolo è un video su come levare la colla dai pennelli nuovi appena acquistati come sapete ogni pennello praticamente hanno la colla per tenere le setole ben attaccate insieme senza che si sparpaglia non diciamo mettiamola così sapete che il mio italiano un po così nel senso parlo più di letto insomma parlo modo mio diciamo ecco quindi spero che mi capiate e allora quindi ho queste tre oggetti o un costruttore un aghetto e un pennello allora questo qui il pennello nuovo come avete visto anche il video della crigelle che non presi due uguali identici che però il uso come colori uno per i colori scuri e uno per i più chiari poi un altro pennellino che è quello per i glitter per mettere glitter allora intanto apriamo questo aspetta vedete un po di luce si ecco qua bellissimo ed è già uno l'ho fatto l'ho preparato ok l'ho fatto proprio prima di fare questo video allora i pennelli quando vi arrivano quelli nuovi vi arriva in questo modo qua pare un po duri praticamente soprattutto sento qua in punta che se sente proprio la colla praticamente viene abbastanza duretti e vi servirà un aghetto io purtroppo questo anche se me ci mi trovo male quelli di da cucire diciamo perché piccolino mi servirà quegli aghetti un po più lunghi fatti apposta proprio e poi un costruttore qualsiasi che questo provo lo spiego dopo quindi adesso vediamo il tutto qua allora voi cosa fate prendete il pennello ok e con l'aghetto andate a levare la colla in questo modo fate tutti così fate in questo modo qua tutte queste mosse così e con tutta la pazienza del mondo state lì ovviamente vi dovete cercare di mettere via contro luce adesso non è che ci sto tanto bene non vedo manco bene comunque fate così praticamente ok con con l'aghetto a tratti così velocini e cercate di levargli tutta la colla ci vuole un po di pazienza perché come su tutte le cose ma purtroppo tocca farlo perché se voi non andate a levare la colla su un pennello nuovo ci andate immergere il gel o un colore quello che sia è da buttare via il pennello quindi mi raccomando ogni volta che comprate un pennello nuovo io almeno la colla la levo così poi se voi avete qualche altra tecnica qualcuna di voi lo sa me lo può scrivere bellissimo sotto a questo video nei commenti e niente levate la colla in questo modo dopo facendo così dopo cosa fate avete fatto questo pezzo qui girate il pennello ok e fate da quest'altra parte fate sempre così finché non vedete che la colla non c'è più oppure le toccate vedete se qua e rimane anche un po più morbido soprattutto in punta e con tutta ripeto la pazienza del mondo vi mettete lì con calma contro luce così vedete anche meglio e cercate di levare la colla quindi in questo modo fate tutto così io purtroppo questo che è accorto me ci trovo pure male sinceramente niente che vedo più di tanto non preoccupate che il pennello non si rompe se fate così con la ghietto vedete i peli stani tutti lì non svolazzano cercate di levare tutta la colla fate prima da una parte poi lo rigirate fate dall'altra fate tipo in basso tornate poi verso l'alto in punta fatti vedete la cosa poi io faccio così per vedere ma ancora la sento sta tutta qua in punta capito ragazzi e quindi voi vi mettete lì con la più che tutta la pazienza del mondo fate in questo modo qua ok piano piano vedrete che la colla va via che ovviamente poi girate da quest'altra parte che fate lo stesso procedimento lo faccio più in punta perché pare più duro un punto qua tanto un bel po la colla senti qua poi se sente anche allora ragazzi io adesso che sono così non ce la faccio e non voglio rischiare di buttare via il pennello che non vedo tanto bene con la luce comunque il procedimento questo ve l'ho fatto vedere e dopo vi faccio vedere e il secondo passaggio quindi adesso io finisco di levarmi tutta la colla per bene e poi vi faccio vedere il secondo passaggio che c'è da fare eccomi qua ragazze loro adesso ho levato infatti adesso più morbido ho levato tutta la colla al pennello ho pensato opposto che così pare che rimane anche duro invece no infatti non c'è più la colla ok perfetto questo qui è il pennello pulito senza colla poi cosa fate per detto costruttore qualsiasi monof olympia cremi builder lucido no lucido no scusate solo costruttore scusatemi e lucido no solo i costruttori quindi olympia 2 pinkie builder che mi builder quello che vi pare importate che un costruttore andate ad aprire io adesso olympia 2 ok cosa fate poi voi prendete una pallina di gel perché così facendo andiamo ad emergere le setole ecco vedete una pallina di gel ecco qua che così già il pennello si abitua al gel insomma no anche se poi questi li do proprio per i colori comunque poi aspettate che mi avvicino un pochino per cosa fate mettete questa pallina qua in questo modo e andate praticamente a immergere il pennello in questo modo a zig zag non fate mosse strane così così perché non va bene fate zig zag che così praticamente il gel penetri bene 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 nelle setole del pennello così intanto il pennello anche si abitua al gel come può essere un gel poi come può essere un colore però voi prendete un costruttore e fate un po così in questo modo così le setole si abitano praticamente al gel intanto ci vuole un po di pazienza quindi prendetevi un attimo di tempo per voi quando non dovete fare niente sia per levare insomma la la colla dalle setole del pennello e sia per fare questo lavoro in questo modo qua ok credo che credo che dovrebbe essere a posto poi prendiamo un altro pezzo di scottex e andiamo a pulire il nostro pennello come qua scusate poi andiamo a pulire il nostro pennello ecco qua ed il nostro è cascato lo scottex il nostro pennello è pronto per essere usato per applicare o il gel insomma o l'acrilico dato che questo acril gel poi vedete voi come volete utilizzare ecco qua il pennello è pronto niente io spero comunque che questo video vi sia stato utile per come pulire i pennelli cioè per toglierlo per pulire per togliere la colla sui pennelli semplicissimo da fare qua niente spero che questo video vi sia stato utile se volete mettete un pollice in su sotto il video commentatemi fatemi sapere come pensate di questo metodo e in più se anche voi avete qualche altro metodo nuovo nuovo insomma qualche qualche metodo vostro per come no paio mi viene sempre a pulire i pennelli voglio dire sia come una specie di pulizia comunque come levate voi la colla dei pennelli nuovi appena acquistati fatemelo sapere e quindi mi raccomando commentatemi niente vi saluto vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao ciao